Prego, buonasera, l'adempimento si è concluso in un lasso di tempo estremamente breve perché abbiamo ritenuto opportuno in questa fase, soprattutto in considerazione della complessità e della mole degli atti processuali che abbiamo avuto a disposizione soltanto ieri, di avvalerci della facoltà di non rispondere, in quanto abbiamo necessità di esaminare la imponente congerie di atti amministrativi che sono stati adottati e abbiamo la necessità naturalmente anche di spiegarli e da un punto di vista della procedura e da un punto di vista dell'ITER che è stato seguito nell'adozione degli stessi, motivo per il quale in questo momento ci siamo passi alla facoltà di non rispondere, ovviamente riservandoci e non è da scudersi che questo avvenga anche in tempi abbastanza brevi di chiedere successivamente un confronto con i pubblici ministeri. Non abbiamo avanzato nessun tipo di richiesta per il momento, questo è quello che posso dirvi.